Ciao, oggi parliamo di advertising online con Gabriele Ronchini, presidente di 4W Marketplace che ci dirà chi è 4W Marketplace. 4W Marketplace è un'iniziativa che è nata nel 2008, da un'esperienza naturalmente che avevamo fatto negli ultimi 10 anni di marketing digitale nel mondo del performance, prende poi piede immediatamente nel 2009, grazie all'accordo che abbiamo poi firmato con il Premium Publishing Network, che è il consorzio fondato da RCS e il gruppo L'Espresso per la gestione degli spazi a performance dei loro siti internet. E in che modo funziona? Allora, stiamo parlando di ottimizzazione, quindi di riuscire a monetizzare, quindi fare più soldi per mille pagine su internet, siamo nel mondo della pubblicità. In particolare, non stiamo parlando della coda lunga, dove tutti gli network classici, soprattutto quelli nordamericani, ottimizzano naturalmente sulla persistenza, noi abbiamo dei siti che tutti i giorni cambiano, abbiamo il Corriere, la Gazzetta, la Repubblica, l'Ansa, la Stampa, quindi tutti i giornali online che ogni ora danno notizie che quindi cambiano completamente l'interesse della nostra audience. Per questo abbiamo sviluppato un algoritmo proprietario nostro che si basa su una iperbole teorica legata alla fluidodinamica dove sostanzialmente stiamo trattando le campagne pubblicitari come dei veri e propri liquidi e quindi andiamo ad ottimizzare questo. uscendo dall'aspetto scientifico e algoritmico, come funziona? Un investitore può scegliere di comprare per keyword piuttosto che invece per canali tematici, sport, intrattenimento, spettacoli e quant'altro e paga esclusivamente a click, quindi se effettivamente un visitatore ha cliccato sulla pubblicità. Cosa aggiungere? Aggiungere un'altra cosa importante, stiamo parlando naturalmente di un circuito che non è blind, quindi l'investitore sa dove va a finire, quindi i prestigiosi editori italiani, non solo, è click fraud, quindi vuol dire che non ci sono frodi sulle click perché non stiamo parlando di coda lunga e quindi quello che paga è tutto vero e in particolare poi gli elementi di qualità più importanti sono che una volta che un utente poi ha schiacciato passa molto tempo sul sito dell'investitore. Che cosa vedete nel futuro? Stiamo parlando ovviamente di un audience molto qualificata che non è di interesse solamente per le grandi aziende e i grandi investitori ma anche per la piccola e media impresa. Entro fine di questo mese lanceremo il geotargeting che quindi consentirà alla piccola e media imprese di poter investire su questi grandi audience, questi grandi editori anche per zone geografiche quindi nord-est, nord-ovest, il centro, le isole, il sud Italia per esempio o le grandi città Roma, Milano, quindi andando a targettizzare ancora di più il proprio investimento in modo tale da avere sui propri siti esattamente i clienti potenziali a cui loro stanno cercando. Per qualsiasi altra informazione seguiteci e postateci sul blog. Ciao!